Ricorre il 14 novembre la giornata mondiale del diabete, è una giornata di sensibilizzazione di tutta la popolazione, è una giornata per riportare l'attenzione su questa malattia cronica estremamente invalidante, anche se grazie all'utilizzo di nuovi farmaci e di nuove tecnologie è una patologia che attualmente si cura molto bene con un aumento della sopravvivenza e della qualità di vita dei nostri soggetti diabetici. In occasione della giornata mondiale del diabete sono stati diffusi i dati dell'Istituto Superiore di Sanità secondo i quali meno del 5% della popolazione adulta tra i 18 e i 69 anni ha ricevuto una diagnosi di diabete dal 2020. Uno dei dati più rilevanti riguarda il controllo dell'emoglobina glicata dal monitoraggio è emerso un trend in costante diminuzione, dati dunque che mettono in luce un impatto della pandemia anche nella gestione del diabete. Ma noi vogliamo focalizzare l'attenzione prevalentemente su quello che è lo screening e sulla prevenzione della malattia perché ci sono ancora tanti soggetti a rischio che potrebbero svilupparlo ed è proprio per questo che vengono promosse su tutto il territorio della nostra azienda, della Sud-Est, una serie di iniziative proprio per sensibilizzare tutta la popolazione al mantenimento e raggiungimento di uno stile di vita sano che comprende sia un'adeguata alimentazione sia un aumento dell'attività fisica oltre a quello di eseguire periodicamente quelli che sono degli esami soprattutto nei soggetti ad alto rischio. Nella ASL Toscana Sud-Est sono 54.700 i casi accertati di diabete mellito, cosiddetto di tipo 2, di questi 22.300 sono ad Arezzo. Qual è l'appello come presidente dell'Associazione Diabetici Aretini che si sente di fare? Considerando che novembre è dedicato alla cura del diabete, un appello importante sarebbe il controllo. Il controllo, il diabete compensato, cioè controllato, sotto controllo, ti permette di fare una vita assolutamente normale e tranquilla. Però negli ultimi tempi, specialmente dopo il covid, parecchie persone non si controllano la glicata. La glicata non è altro che il controllo trimestrale di come è il livello della glicemia del diabete. La glicata è importante soprattutto per i diabeti alimentari e non tanto per chi ha l'insulina, perché chi fa uso di insulina si controlla da solo. Per quanto riguarda il diabete alimentare, invece purtroppo negli ultimi tempi dal diabete alimentare si arriva al diabete insulinico, cioè con punture, con iniezioni. E questo è gravissimo.